E' arrivato il momento di svappare, svappo web! Buongiorno dallo Stadio Italia di Sorrento, siamo pronti per assistere al torneo internazionale di calcio giovanile Under 17. La prima gara sarà tra Sorrento e Crotone. Partiti! E' in affanno la squadra di Mister Lomonaca, palla lanciata sulla destra per il numero 4 Ruocco, ancora Ruocco, entra in area, cross sul primo palo, palla calciata dal centroavanti Guastella. Lucanto, amanza il Crotone, palla per il numero 8 Dubicas, va al tiro, il numero 11 Samache. Ancora Crotone, palla in area, invitante, la raggiunge il giocatore del Crotone, la metta all'indietro per il numero 7, va al tiro, tiro che va alla sinistra del portiere del Sorrento. Ancora Sorrento, in profondità per Vitale, Vitale, va al tiro, para d'alterio. Aprea, alla battuta, palla lunga dalla rincorsa che sta prendendo. Arriva nel centro dell'area, stacca Guastella, ancora esposito Luigi. Tutto pronto, partiti. Si inizia questo secondo tempo tra Sorrento e Crotone. Primo pallone toccato dal numero 15, Mennella, in profondità verso Lauro. Lauro capisce le intenzioni, tenta un tiro, cross, palla che... Ancora Lauro, entra, adesso il numero 17 Vicente, palla al centro, esce d'alterio, smanaccia quel poco che basta. 29 minuti di gioco, Lauro, Lauro contro Jakubib, scontro fisico. Ancora palla verso il numero 17 che va al tiro, para d'alterio in due tempi. Sorrento che ruba palla sulla corsia di destra, il numero 14, mette al centro. Rinvia Jakubib, finisce in questo preciso istante. Risultato finale, 0 a 0, si procederà alla lotteria dei calci di rigore. Primo ad andare sulla palla, è il giocatore giovanissimo, forse uno dei più esperti della squadra. Masi, parte Masi, rincorsa breve, calcia, palla a sinistra, portiera a destra. Rincorsa dritta per il numero 2 del Crotone. Parte Noce, Noce, para, Leone! Calcia di destro, parte Nocera, para, d'alterio, si resta sull'1-0. Leone contro Lauro, parte Rete, pareggia il Crotone, 1-1. Mennella contro d'alterio, parte Mennella, tira, para d'alterio, si distende. Parte Jakubib, alto, parte Esposito contro d'alterio, rete, Sorrento 2, Crotone 1, Trotta contro Leone. Si spera nel miracolo, parte, segna Trotta, 2-2. Lauro contro d'alterio, parte Lauro, tira, rete, 3-2. Parte Tripoli, rete, 3-3. Russo contro d'alterio, parte Russo, tira, rete, parte Riga, tira, rete. Palla all'incrocio dei pali, parte Ricci, rete. Lorenzi contro Leone, parte Lorenzi, parte Aprea, tira, rete. Carbone contro Leone, tira, finisce qua. Sorrento, batte Crotone, 6-5. Le due squadre non sono riuscite a superarsi però, diciamo, calcio giovanile in 17, un ottimo calcio. Sì, è un discreto calcio, diciamo, approfittiamo per questi paio di giorni per rilassarci un pochino, perché comunque sono partite importanti, abbiamo trovato una squadra che, appunto, è stata una partita, diciamo, agonisticamente valida e poi alla fine siamo andati a rigore e ha vinto il Sorrento meritatamente alla fine, penso. Comunque la partita, credo, non ho visto grande giocate, grande mentalità, perché ancora stiamo approfittando per rilassarci un paio di giorni. Però credo che ci vuole la mentalità giusta per poter andare avanti, perché se no in questi tornei perdi con tutti. La seconda gara del torneo MSC Sorrento 2018, trofeo Goffredo a Campora, ad affrontarsi per il gruppo B del torneo saranno Benevento e Salernitana. Sono trascorsi appena due minuti, ma la palla staziona. Ancora Salernitana, esce il portiere del Benevento, non riesce ad aguantare la sfera. Ancora Benevento che si difende. Salernitana, arrembante. Ancora Salernitana sul secondo palo, al centro, rete! Segna il numero 7 della Salernitana, che porta in vantaggio la propria squadra, del Regno. Riparte ancora il Benevento, palla sulla sinistra. Dove è il numero 10, Dublino? In profondità, perso il capitano, rete! Ma c'è fuori gioco. Ancora Benevento, avanza, portendoso. Ancora Benevento, sulla fascia sinistra per il numero 13. Cross al centro! Si salva la difesa della Salernitana. E' il numero 14 che si presenta così, Vignes. Ancora Benevento, va al tiro. E' stato il numero 10, Dublino, a calciare. Alla battuta, il numero 14, Pastina. Di sinistro. Tenta il tiro. Traversa, piena! Colpita dalla distanza! Palla che filtra. Si invola sulla fascia destra. Il giocatore numero 18 della Salernitana. L'uno contro l'uno, va al tiro. Blocca a terra. Stasi. Finisce qua. Con un minuto di recupero, il signor Ciccarelli, degreda la fine delle ostinità. Finisce 1-1, si va ai calci di rigore. E' a calciare la Salernitana con il numero 14 che tira a rete. 1-0. Parte Pastina. Rete. 1-1. Fuori! Sopra la trasversale, il secondo calcio di rigore. Di Siena contro Scogliamiglio. Parte di Siena. Tiro. Rete. Parte Panico. Tiro. Rete. Scogliamiglio. Parte di Palma. Tiro. Rete. Parte Pistola. Tiro. Rete. Uso contro Scogliamiglio. Parte Peluso. Tira. Rete. 4-3. Parte del Prete. Tiro. Rete. Tiro con il numero 10. Dublino. Rete. Rete. Benevento che si aggiudica per 6-5 l'incontro. Quello che fa veramente piacere, grazie agli organizzatori e anche al Comune di Sorrento, di organizzare una cosa per i ragazzi e solo perché loro si divertano in un contesto che speriamo di sviluppare negli anni e di allargare ulteriormente ad altre squadre di pari prestigio e anche internazionali perché lo merita Sorrento, lo meritano i ragazzi e soprattutto l'impegno di chi si è profuso nel cercare di avviare questa iniziativa che speriamo sia colta con piacere anche a livello locale per allargare questa cosa e fare giocare i ragazzi a Sorrento che a Sorrento c'è anche bisogno di tanto sport. Con grande sorpresa e piacere, vedo che i ragazzi, anche io non mi aspettavo pochissimo o nessuno perché poi è giorno feriale, giorno di scuola, giorno di lavoro, bellissima giornata per cui i Sorrentini che spesso sono un po' distaccati diciamo dallo sport dimostrano che quando c'è qualità e dedizioni ma soprattutto quando ci sono giovani c'è sempre una risposta e ribadisco che la speranza è quella che per i ragazzi e i giovani di Sorrento tutti insieme anche le energie locali contribuiscano a sviluppare anche mille altre occasioni ma anche di altri sport come a Sorrento c'è la possibilità di fare. Siamo alla seconda gara del raggruppamento A del torneo MSC 2018 trofeo a Campora a giocarsi questa importante gara sono il Napoli e il Sorrento. Batte, rete, segna il Napoli, si sblocca il risultato, Napoli 1, Sorrento 0 a segnare il numero 9, Sposito Domenico. Ma sicuramente può essere un aiuto però potrebbe essere anche una problematica perché magari si creano dei falsi delle situazioni perché magari i giocatori sono convinti che c'è bisogno a tutti i corsi di questi under. Siamo al sedicesimo, batte il calcio d'angolo il Sorrento, palla a centro, parte Guastella, tira, palla che sorvola a traversa. Alla fine il Napoli si distende, va in contropiede, palla lunga però rinviene il difensore del Sorrento. Ancora Napoli, palla sulla sinistra dove c'è Giliberti, l'uno contro uno, Giliberti entra in aria, attenta il tiro, rete, palla che si infila, l'incrocio dei pali, gol di Giliberti. Giliberti finisce il primo tempo, l'albitro non recupera nemmeno un secondo, primo tempo, ribadisco il risultato, Napoli 2, Sorrento 0. Palla lunga, il peperino, Giliberti autore di un gollo importante, ancora il Napoli con il numero 10 che va al tiro, para Leone a terra. Primo pericolo, 4 più la barriera alluncata, visibilità scarsa da parte di Zagari, si appresta al calcio di munizione, parte Sposito sul primo palo. Il gol, battuto il calcio d'angolo, palla sul primo palo, ancora Sorrento, punteggio che resta sempre di 2 a 0 per il Napoli. Batte Sorrento il calcio d'angolo, cross al centro, rete! Segna, è Sposito Luigi! Ancora Napoli, Giliberti, entra in area, Giliberti è tu per tu con Leone, ancora Leone! Palla all'indietro verso Zagari, finisce in questo preciso istante l'incontro, terzo incontro della giornata, secondo del raggruppamento, Girone A in Napoli si impone sul Sorrento per 2 a 1, in classifica Napoli 3, Sorrento 2, Crotone 1.